Sette e ben! Ma Stefano! Ehi nonno, sono un asso! Bravissimi, avete finito di giocare! Vi ho portato dei biscotti buonissimi! Grazie, non è quello che gli piace per noi! E lo so, per quello li ho fatti! Sono veramente buoni, li mangia anch'io! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, siamo del TG9, Trinità, possiamo fare alcune domande? Certo! Ok, grazie! Una prima ragione, scusi, è che... Cosa ti piace dell'essere nonno? Mi piace stare insieme ai miei nipotini! Grazie, nonno! Giocare con loro e raccontare tante, tante storielle come quando ero bambino! E' più bello e facile essere nonno o papà? E' più bello essere nonni perché si è più maturi e diverse problematiche vengono risolte con molta esperienza, soprattutto perché certe responsabilità sono a carico dei genitori. Grazie per aver risposto alle nostre domande. Signora, potremmo fare una domanda anche a lei? Certo! Ti comporti con il tuo nipote allo stesso modo che con il tuo figlio? Dal punto di vista affettivo sicuramente sì, perché amo i miei nipoti nello stesso modo in cui amavo e amo i miei figli. Dal punto di vista educativo è più difficile essere nonna che mamma, perché devi sempre ricordarti che non sei il genitore, sei la nonna, per cui non devi mai sottovalutare o cambiare le regole stabilite da papà e mamma. Grazie signora per aver risposto alle nostre domande. E ora la linea torna allo studio.